me ne devi accompagnare che accompagno me ne vado a piedi grazie per il favore prego io l'ho sempre capito che questo mestiere non fa per voi purtroppo no non è proprio cosa vostra o no tu perché non lo fai fatto tu che ci fai qua salite che ce ne andiamo salite glielo dice la tua sorella e andiamo dunque andiamo un po di educazione no eh andiamo comunque che ci fai qua avvocato mi dovete fare un favore di qualunque cosa si tratti ti dico già di no pur se si tratta il mio brusolo ha maggior ragione visto che non lo difendo più la morte di brucolo sta ammazzando la mia paura che uno di questi giorni lo troviamo appeso che vogliamo fare vogliamo fare i padri ci mettiamo una lima nella torta ci avete pensato proprio a questa cosa prego avvocato vai via lo sai che ho incontrato proprio adesso è passata Lady Gaga una ronda vi siete fatto un selfie ma diamoci del tutto ecco lo picchio ecco 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 datemi un secondo che fa tu stai pure qua posso salire un momento sopra assolutamente no chi è sta commercialista propone relata refero mi hai fatto classico no perché vuoi ti ho dato le piani e non siamo ancora così e non lo saremo mai io e te tricato capite l'efficacia è diventato pure sindacalista ma che ne ho parlato più con parlo tutti non posso parlare con il bambino ma come hai fatto come ho fatto 5 mila euro un caffè non voglio però permetti almeno questo grazie a tutti